Lavorare La donna sta lavorando in ufficio. Chiedendo e rispondendo, aiutando e sorridendo. Partecipare a un incontro di lavoro Tutti nel reparto stanno partecipando a un incontro di lavoro. Presentando e spiegando, presentando e parlando. Bere caffè Gli impiegati bevono caffè mentre stanno facendo una pausa. Sorseggiando e rilassandosi Rilassandosi e riposandosi Fare una telefonata La persona sta facendo una telefonata. 7, 8, 9, 5, 4, 1, 1 Usare un computer La persona sta usando un computer per scrivere un'e-mail. Battendo sulla tastiera e leggendo Leggendo e battendo sulla tastiera La donna sta lavorando in ufficio. Tutti nel reparto stanno partecipando a un incontro di lavoro. Gli impiegati bevono caffè mentre stanno facendo una pausa. La persona sta facendo una telefonata. La persona sta usando un computer per scrivere un'e-mail. La persona sta usando un computer per scrivere un'e-mail.